La società sportiva US Agropoli comunica di aver tesserato nella giornata di ieri i calciatori Lias Trabelsi, classe 2002, e Luigi Poglio, classe 2003. Trabelsi è stato riconfermato dopo l'ultima ottima stagione, nella quale si è dimostrato un elemento valido e affidabile. Agropolese, cresciuto nel settore giovanile dei delfini, è uno degli elementi più validi del panorama calcistico della città. Poglio, invece, ha giocato l'ultimo campionato con la maglia del Pianura, dopo essersi formato nella scuola calcio Monte Ruscello. Anche lui, classe 2003, è uno tra i giovani più promettenti del panorama dilettantistico. Entrambi sono già a disposizione del tecnico Cianfrone, pronti per i primi impegni ufficiali della stagione.